Ben ritrovati con il notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 16 dicembre. Sostenute le contrattazioni che vedono un aumento del 2,8% rispetto alla settimana scorsa, raggiungendo così il valore di euro 6,08 chilo franco partenza magazzino venditore. Aumento peraltro in linea con l'andamento mensile dell'inflazione, stimata da ottobre a dicembre 2022 a 0,3%. Aumenti anche per il prodotto biologico, anche se con contrattazioni non sostenute. L'italiano è a 6,70 euro, lo spagnolo a 6,35 euro. Sostenuto il mercato dell'olio extravergine di oliva di nuova produzione, che dal 21 ottobre è passata a 6,34 euro, alla data attuale 7,20 euro chilo. Mercati esteri Limitate la domanda e le contrattazioni dell'olio spagnolo con quotazioni stabili leggermente in ribasso. Buono il livello delle compravendite con Grecia e Turchia, paesi dove si è registrato un incremento di produzione rispetto allo scorso anno. Vediamo ora assieme il consueto raffronto sulle maggiori piazze estere. Portogallo-Grecia 5,65 euro, Spagna 5,30 euro, Marocco 5,25 euro, Tunisia 5,20 euro, Turchia 4,95 euro, Algeria 4,90 euro, Egitto 4,85 euro, chilo. Ringraziamo la dottoressa Selin per le puntuali informazioni sulle quotazioni dei mercati turchi. Grazie per l'attenzione. Arrivederci alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Cari rischi cappare C basesi gruppi的人 tara alantonio chip Maar councilmen di interno per le puntuale informazioni sulle quotitional dell'Italia. Grazie a tutti.